Musica Alza bandiera e inno di mameli preceduti da un rincorso taglio del nastro. Il 2 giugno a Montecchio di Vallefoglia è stato un momento sia di cerimonia ricorrente alla festa della Repubblica, ma anche di inaugurazione della nuova piazza del municipio, costruita a due passi dalla fresca sede comunale di via Rampi 4. Un luogo centrale in un'area già ricca di servizi per la comunità di Vallefoglia. Una doppia festa perché l'inaugurazione di piazza del municipio, che è la piazza di questa realtà, della casa della salute, delle scuole, delle palestre. Ieri mattina i ragazzi hanno già collaudato i giochi d'acqua con un bagno che dà l'idea dell'inizio dell'estate. Quindi veramente tanta gente, non ce l'aspettavamo, siamo particolarmente contenti per la festa della Repubblica e anche per l'inaugurazione della piazza del municipio. Consegna della nuova piazza ai cittadini della Vallata, che è stata animata dalle note del corpo bandistico Giovanni Santi di Colbordolo, dalla voce del coro I Cantori della Città Futura e dalla sinuosità delle movenze del gruppo Centro Danza Performance di Lisa Vergoni. Sotto il sole coccente rifletteva il bagliore dei 20 getti d'acqua zampillanti della fontana, posta al centro della nuova piazza. Un arredamento che è stato completato da 9 panchine e da 24 punti luce per illuminare la nuova area nelle ore notturne. Grazie a tutti.